Buonasera, non so se c'è qualcuno già connesso, mi sono connesso qualche secondo prima, giusto per essere sicuro di non tardare. Ciao Elisabetta Caresana, vediamo quante persone si connetteranno, siamo già a tre, mi sentite tutti? Ciao Enri. Oh ciao Mirella, adesso vediamo quante persone si connettono, sono alle 21.30 in questo momento, mi sono connesso un attimo prima perché non sono molto esperto di dirette e quindi ho sempre avuto, avevo l'ansia da prestazione del tipo tecnologico perché ho detto vediamo se riesco a fare questa diretta visto che è la mia prima volta, ok? Siamo già 15 persone, aspettiamo che si connettano le prime 900 persone e poi comincio scherzo naturalmente. Tanto abbiamo 5-6 ore di tempo per questa diretta. Milenia Mediri, buonasera, anche a te. State tutti bene? Ah, sei connessa a Ima Luca, la nostra campionessa di medianità, cintura nera di medianità. non so quanto devo aspettare, ditemi voi, dimmi tu Enrico che sei il boss di Focus. Per me non c'è un problema, una volta avviata la diretta io sono tranquillo, era l'unico grande pensiero che avevo questa sera. Ciao Anna Frezza, ogni tanto saluterò qualcuno, ok? Giusto per interrompere un attimo la situazione perché se volete qualche dato, qualche informazione, è stato visto che negli anni 70 il tempo di attenzione delle persone era intorno ai 10 minuti, invece adesso è diventato più o meno di 70 secondi. Questa è colpa della tecnologia, di tutti i dati che riceviamo in ogni momento che ci ha fatti veramente andare fuori di senno. E quindi ogni tanto farò qualche urlo, mi metterò a ridere qualche catarsi improvvisa. Bene, dai, siamo a tre minuti di cazzeggio, siamo a più di 30 persone, possiamo cominciare. Io sono Gabriele Gandola, per alcuni Gabri Gabri, per altri Lele, per altri nipote, per altri Dottor Gandola. Dico questo non per prendervi in giro ma perché più tardi parleremo anche della percezione dell'ambiente e di come vediamo anche il mondo in maniera diversa l'uno con l'altro. E questo è molto importante perché io sono la stessa persona ma per ognuno di voi posso veramente essere un personaggio completamente diverso, enigmatico o da conoscere. Ho lavorato, se devo presentarmi, non so se interessa qualcuno perché stasera l'argomento è etica identica, però mi hanno detto di presentarmi tra le prime cose. Quindi posso dirvi che per 15 anni ho lavorato nel campo aeronautico e dopo una mezza crisi esistenziale ho deciso di cambiare vita, anche a seguito di un percorso spirituale che ho fatto, molto importante, che mi ha portato a fare tantissime scoperte, tantissime ricerche personali che mi hanno proprio fatto vedere il mondo diverso da come lo vedevo prima. E quindi inevitabilmente c'è stato un cambiamento molto molto forte, a prescindere poi dal principio di coerenza che vedremo anche questo più tardi magari, perché quando una persona comincia a fare un percorso spirituale non può essere coerente, la coerenza non può esistere. E quindi quando incominciate a vedere il mondo in maniera diversa a seconda di quello che scoprite, a seconda delle emozioni che vivete, delle persone che incominciate a frequentare, è ovvio cambiare. Questo fa proprio parte della natura. E nel mio percorso, adesso come operatore olistico, sono inquadrato tra i guaritori, poi apriremo anche una parentesi su questo argomento. Però vedo tante persone che magari incominciano questo percorso rimanendo ancorati al loro passato, alla loro cultura, ai loro valori, ai loro principi. Non c'è niente di più sbagliato. Ok, è vero, sicuramente avere dei principi culturali e così via è molto importante, però quando incominciamo a percorrere un cammino importante come quello spirituale, che al di fuori di qualunque religione, è inevitabile il cambiamento. Non si può rimanere gli stessi, soprattutto a seguito di traumi o lutti importanti, in cui proprio si cambia all'interno, cambia tutto nel nostro sistema, dalle connessioni neuronali al dialogo che c'è tra le nostre cellule e così via. E quindi, come dicevo prima, sono considerato nel grande calderone dei guaritori. Però vorrei subito introdurre un concetto, che è quello che non esistono realmente guaritori nel mondo. Voi potete andare in qualunque posto della terra, sull'Himalaya, in Sud America, in Amazzonia, in Africa, cercare i più grandi guaritori, sciamani, profeti, santoni, tutto quello che volete, ma in realtà nessuno di loro ha la capacità di guarirli. Questo scordatevelo. È una grande illusione, non la voglio chiamare balla perché non è proprio così, però per chi studia il corpo umano, la fisica quantistica e quant'altro, sa benissimo che il nostro corpo è un corpo, è un organismo perfetto e nella sua perfezione ha una grandissima capacità di autoguarigione. Quindi, di fatto, la persona che voi vedete come guaritore, come persona che vi fa dei trattamenti, qualunque essi siano, in realtà sblocca dei nodi che sono legati a delle abitudini, che vi hanno portato verso la malattia, inesorabilmente. E anche qui il concetto di tempo e spazio lo vedremo dopo. Va rivisto un attimino, questo ce lo spiega la fisica quantistica, perché questa sera parleremo un po' di epigenetica, ma parlare di epigenetica vuol dire anche parlare di fisica quantistica. Io cercherò di usare parole molto semplici, senza usare grandi termini tecnici che sono importanti, ma spesso sono anche molto limitanti. E visto che sono le nove e mezza passate, non vorrei addormentarmi io per primo, ma piuttosto voglio cercare di mantenere la vostra attenzione. Quindi, che cos'è l'epigenetica? L'epigenetica di fatto è una materia scientifica composta da tante altre che si occupa di studiare l'organismo umano e i processi dell'organismo umano da un punto di vista biofisico. Va bene? Tendenzialmente noi dobbiamo capire che siamo fatti di materia, oltre che da spirito. La materia è composta da atomi, ogni cosa intorno a noi, i libri che vedete, il tavolino, il computer, qualunque cosa è composta da atomi. Bene, le cellule sono anch'esse composte da atomi e nelle loro cellule c'è il DNA. Il DNA è una grande banca dati che contiene tante informazioni che fanno parte della nostra persona e che vengono ereditate dai genitori, dalla madre, dal padre, ma non solo, perché è stato visto che nella nostra trasmissione genetica arriviamo fino alla terza generazione. Questo è qualcosa di fantastico. Che cos'è il DNA? Il DNA sono 3 metri in 5 micron che si esprime ogni millisecondo a seconda delle esigenze che riceve dalle informazioni. Queste informazioni arrivano dall'esterno e quindi dall'ambiente. Questa informazione inizialmente si credeva che avesse un'unica direzione, quindi che partiva dal DNA per poi passare all'RNA, che è quello che trasmette l'informazione fuori dalla cellula, alle proteine che poi andavano a comporre il nostro corpo, eccetera, e poi all'ambiente circostante naturalmente. Però le grandi scoperte dell'epigenetica e così via ha visto che questo percorso non ha una sola direzione verso l'ambiente, ma è anche dall'ambiente che provengono informazioni, quindi alle proteine, all'RNA, al DNA e quindi alla cellula. Questo che cosa ci dice? Che noi abbiamo una grossa responsabilità sulla vita e il mantenimento del nostro corpo, delle nostre cellule, che di fatto ci danno la vita. Perché? Perché siamo noi che scegliamo il nostro ambiente di riferimento. Se noi stiamo male in una determinata situazione, che può essere professionale, familiare, sociale, quant'altro, le informazioni che noi mandiamo alle nostre cellule tramite il processo descritto prima, sono negative, sono vibrazioni molto basse. E quindi questo ce lo spiega un po' anche la meccanica quantistica, ok? che, diciamo, studia tutta la vita del nostro organismo fuori dallo spazio e dal tempo. Infatti il concetto di spazio e tempo è stato completamente rivisto con gli studi della fisica quantistica. Una volta si pensava che tra me e voi ci fosse una distanza, una separazione, o tra noi e un oggetto qualunque e che il tempo scorresse in base a quello che noi leggiamo dall'orologio. In realtà il tempo è molto difficile da misurare e non scorre nello stesso momento in ogni posto della Terra. Infatti è stato visto dagli studi che solamente l'altezza, ok, già cambia il passare del tempo, la velocità. Per esempio in montagna il tempo scorre più veloce che a livello del mare, va bene? E questo è incredibile perché è stato poi scoperto con degli strumenti di misurazione temporali che addirittura in alcune aree della Terra il tempo passa in maniera diversa, a seconda poi dai campi elettromagnetici che ci sono in quella zona. Oppure parlando di spazio è stato notato e studiato che c'è tutta una massa oscura, oscura non perché è maligna o perché è negativa, ma una massa oscura perché è trasparente, non si vede all'occhio umano, che in realtà connette tutti gli oggetti, tutte le persone all'interno dello stesso mondo e anche nell'universo. Jung già ai tempi, Jung è un psicologo, psicoterapeuta fantastico, uno dei padri della psicoterapia, della psicoanalisi, parlava di coscienza collettiva, ovvero tutta l'influenza della collettività, ok, che noi riceviamo e che quindi assorbiamo l'energia e la vibrazione di quella coscienza, che comunque in qualche modo ci condiziona. Quindi grazie alla meccanica quantistica riusciamo a comprendere funzionamento cellulare, quindi non si può più parlare solamente di biochimica, ok, non basta più, ma è necessario integrare le leggi dei processi biofisici, ovvero le leggi dell'energia che governano la materia. La vita non è dominata da processi chimici, che hanno un tempo e uno spazio, va bene, ma da una rete di segnali biofisici istantanei, che sono completamente fuori dal tempo e dallo spazio, che reggono proprio i processi biochimici. Pensate nel momento in cui noi viviamo un'emozione o vediamo qualcosa che ci colpisce, che ci affascina, ci spaventa o ci dà gioia, tutto il corpo in quel momento, in un istante, è errorato dalle vibrazioni che noi viviamo, a seconda poi dei processi chimici che nascono, che scaturiscono da quella reazione. Quindi può sembrare un discorso veramente un po' fuori luogo, nel senso che ci sono tantissimi revisionisti, adesso ultimamente si sentiva parlare anche di terapeutisi, non è roba del genere. La medicina convenzionale sta già da tempo utilizzando strumentazione che va proprio ad alimentare e a nutrire e a curare naturalmente il corpo. Ci sono tantissime analisi che per esempio vengono effettuate con la risonanza magnetica nucleare, che sfrutta il principio di risonanza degli atomi di idrogeno che compongono i tessuti per indagare la forma e la struttura, oppure l'elettrocardiogramma e l'elettrocefalogramma che misurano segnali elettrici provenienti dall'attività del cuore e dal cervello, oppure attività terapeutiche come la radioterapia, l'adroterapia, trattamenti con ultrasuoni, eccetera. Questi vengono utilizzati tantissimo per quello che riguarda le neoplasie, i tumori e così via. Quindi l'organismo è un complesso di frequenze elettromagnetiche, di fenomeni di risonanza e di vibrazioni, perché noi siamo in un continuo mondo fatto da vibrazioni e di risonanza. Questo è importantissimo. Non so se qualcuno... Ciao Giorgio, sto leggendo un attimo se ci sono eventuali commenti o domande, perché non sono... Ok, buonasera, ciao a tutti, Caterina, Romana, ciao. Certo, certo, naturalmente dopo potrete fare assolutamente domande. Ciao Angela, sto leggendo un attimino perché non sono molto tecnologico, c'è gente veramente molto preparata dal punto di vista tecnologico. E quindi parlavamo dell'ambiente. Che cos'è l'ambiente che ci circonda? Questo ambiente che condiziona tutto lo sviluppo e la vita delle nostre cellule e così via. sono il cibo, l'acqua che beviamo, comunque i liquidi che noi introduciamo nel nostro corpo, ma sono anche la famiglia, la scuola, il posto di lavoro, il gruppo dei pari, quindi se facciamo qualche attività sportiva, le persone che noi frequentiamo. E partendo un attimo dal cibo. Ora, non sono un dietologo e tantomeno uno specialista in questo campo. Io sono, diciamo, laureato in psicologia, ho dato alcuni esami su psicobiologia, fondamenti anatomofisiologici e così via, quindi ho studiato tanto, ma in un determinato campo. Però ecco, vorrei parlare un attimo del cibo, per esempio, quando voi mangiate, mangiate solamente per introdurre qualcosa oppure mangiate per assumere quell'energia dall'alimento? E che tipo di alimentazione utilizzate? Un'alimentazione carnivora o un'alimentazione vegetale? Già questo fa molta differenza. Non voglio fare moralismi inutili tra vegani, carnivori e così via. Però un punto lo voglio affrontare, che è quello dell'energia, della vibrazione e dell'emozione che noi ingeriamo dagli alimenti. Per esempio, al di là della crescita degli animali che possono essere fatte in ambienti positivi o in allevamenti intensivi e che quindi fanno soffrire gli animali e così via. Ora, non voglio entrare in argomenti che non mi competono, però noi dobbiamo sapere che quando noi mangiamo della carne non ingeriamo solamente delle proteine, dei grassi e così via, ma ingeriamo delle vibrazioni, le emozioni degli animali. Queste emozioni si registrano nelle cellule. Le cellule hanno una memoria e hanno una coscienza. E quindi naturalmente quando noi andiamo a mangiare della carne mangiamo anche delle emozioni che hanno vissuto questi animali che sono stati macellati. Quindi il terrore, la paura, il disagio e così via. Anche la separazione per quello che riguarda i cuccioli dalle madri e così via. E questo è molto importante. Poi ogni persona può mangiare giustamente quello che vuole, però una considerazione va fatta sulle emozioni degli alimenti che noi mangiamo. è stato visto per esempio da alcuni studi e da alcune ricerche quanto la memoria cellulare sia importante e quanto poi va da lavorare e influire sulle nostre cellule e anche sul nostro comportamento. C'era un medico chirurgo che è americano che a seguito di un intervento lui aveva trapiantato uno stomaco da un uomo praticamente morente si sa a una persona che stava aspettando di ricevere il suo stomaco e questa persona a seguito dell'operazione qualche mese dopo quando ha recuperato le forze e ha potuto mangiare si è accorto che aveva una grandissima voglia di hamburger. Lui nella sua vita non aveva mai amato gli hamburger eppure dopo l'operazione era fortemente attratto dagli hamburger e quando poi hanno fatto una ricerca sulla persona che aveva donato lo stomaco si sono accorti hanno scoperto che il donatore era un grande amante di hamburger. Sembra una barzelletta però vi giuro che è proprio così e di esempi ce ne sono tantissimi soprattutto per quello che riguarda le emozioni che riguardano i trapianti eccetera perché comunque l'informazione emotiva l'informazione energetica rimane nell'organo. Tuttavia nell'alimentazione dobbiamo considerare l'energia e le vibrazioni che sono assolutamente essenziali per la vitalità delle nostre cellule e del nostro sistema. Per questo ci viene incontro Bobis che ha fatto degli studi incredibili e ha anche creato una scala che serviva per misurare la la biometria degli alimenti in particolare lui ha studiato un po' tutti gli alimenti però si è soffermato sull'importanza degli alimenti che sono crudi. Ok? Questo questa scala si chiama Armstrong e lui ha proprio visto che sotto i 6500 di questo livello Armstrong l'organismo non può mantenersi in vita quindi un organismo che non riesce a sostenersi in vita va incontro alla malattia ed è incredibile come scoperto perché noi spesso non non ci rendiamo conto di di quanto siano veramente importanti le cose che mangiamo quindi questo per dirvi che per una dieta molto importante parlando proprio di cellule epigenetiche e così via è indispensabile anche tutta una parte di cibi crudi che aiutano proprio il sostenimento cellulare e vibrazionale del nostro corpo vediamo se qualcuno ha scritto qualcosa ciao a tutti vabbè non vi saluto uno per uno vabbè Rita la carne non la mangi più bravissima ciao sei di Anastasia e quindi questo per farvi capire quanto il nostro organismo ha bisogno veramente di un ambiente positivo e sano partendo dal cibo partendo poi dalla famiglia noi non nasciamo genitori naturalmente nasciamo bambini nasciamo figli cresciamo in famiglie che possono essere perfette o avere i suoi problemi non è un problema però dobbiamo capire quanto poi questi condizionamenti familiari domestici influiscono sulla nostra crescita sulle nostre emozioni e di conseguenza sulla nostra salute addirittura alcuni studi dell'epigenetica che si sono concentrati sulla sulla parte prenatale quindi nella nascita nel feto all'interno del ventre materno ha visto quanto le emozioni influivano sul comportamento e lo sviluppo sia nel ventre che subito dopo la nascita alcune emozioni di angoscia di paura di rabbia venivano proprio registrate e queste emozioni trasmettevano delle vibrazioni chiamate RNA minore che addirittura avevano una frequenza molto bassa ma arrivava addirittura in alcuni casi a bruciare delle terminazioni nervose quindi pensate voi quanto una madre che aspetta un bambino sia responsabile nel periodo prenatale dello sviluppo del feto del bambino sia da un punto di vista di alimentazione perché sempre l'epigenetica ha dimostrato quanto una madre che si alimenta di cibi grassi vada a mandare dei segnali delle registrazioni al feto che in automatico quando nascerà diventerà bambino e comincerà a crescere avrà bisogno di queste sostanze era stato fatto un esperimento addirittura in Inghilterra in cui ha delle pecore che aspettavano degli agnelli veniva fatto mangiare del limone ok è stato visto che gli agnelli che sono nati tendevano a mangiare i limoni quindi gradivano il sapore aspro dei limoni mentre gli agnelli che nascevano da pecore e che non avevano mangiato i limoni non mangiavano limoni questo anche questa sembra quasi una barzelletta però è così perché noi trasmettiamo le nostre informazioni a livello genetico e anche da questo punto di vista però bisogna fare abbastanza chiarezza io ho sentito parlare molto spesso persone che dicevano mio padre ha avuto tumore alla prostata o tumore allo stomaco oppure mia madre ha avuto un tumore al seno quindi geneticamente mi ha trasmesso questa informazione e quindi faccio un sacco di analisi per capire per prevenire eventuali malattie bene in parte è vero allora prima di tutto fare controlli preventivi è assolutamente ottimo assolutamente essenziale però dovete capire una cosa quello che attiva l'informazione che viene trasmessa da madre a figlia o figlio da padre o dal padre è un'informazione che diciamo è latente dormiente si attiva solamente nel caso in cui ci sia un determinato fenomeno un determinato trauma o uno stress prolungato nel tempo che porta allo sviluppo della malattia vi faccio un esempio i figli di genitori che fanno abuso di sostanze tossiche quindi possono usare per esempio cocaina eroina o abusano di alcol e così via trasmettono geneticamente questa informazione ai figli ma non è detto che i figli quando cresceranno saranno attirati dalle sostanze tossiche va bene se vivranno in un ambiente sociale ottimale che gli permette una crescita sana e quindi li tengono lontani da un contesto amicale o gruppale che per esempio discrimina le sostanze tossiche loro non saranno attratti naturalmente questa informazione genetica non si attiverà e quindi questo per farvi capire quanto è importante l'ambiente sociale anche su questo ci arriveremo per tempo però per farvi riflettere un attimo quanto la nostra vita sia frenetica quanto non riusciamo mai a fermarci quanto siamo in baglia degli eventi della situazione il capo che ci stressa che ci chiede di lavorare 12 ore al giorno gli amici che ci vogliono vedere tutti i giorni oppure ci mandano un messaggio via whatsapp e si aspettano o pretendono una risposta entro pochi secondi non c'è più il tempo per pensare non c'è più il tempo per annoiarsi e tutto questo non va bene per il nostro fisico perché diciamo che nella dimensione in cui noi viviamo è importante il riposo nel riposo le nostre cellule si rigenerano è stato studiato sempre dalle neuroscienze anche dall'epigenetica naturalmente quanto per il bambino appena nato il riposo serva per ricostruire non solo le informazioni della memoria che questo poi rimane costante nella vita quotidiana se noi non dormiamo a sufficienza le cose che noi abbiamo imparato non riusciamo a memorizzarle però nel bambino è fondamentale il sonno perché il sonno facilita lo sviluppo cerebrale quindi anche per quello che riguarda i bambini si vede sempre bambini ultra impegnati quasi come dei manager che hanno un'agenda piena imparano a fare tennis imparano l'inglese imparano il francese sono ultra impegnati ecco questo è importante da tenere in considerazione nello sviluppo del nostro bambino perché il nostro bambino giustamente deve essere stimolato ma non deve essere sovrastimolato perché poi ci possono essere delle situazioni peggiorative opposte che lo portano proprio verso la malattia per esempio l'apatia l'apatia è qualcosa che nasce a seguito di una attività troppo stressante troppo frenetica che non gli permette di esprimere di trovare se stesso fin da bambini noi cresciamo per processi mutativi incominciamo a guardare il mondo e le prime persone che ci stanno intorno sono i nostri genitori quindi noi incominciamo a imparare dai nostri genitori e man mano che cresciamo e ci appacciamo sul mondo incominciamo magari la scuola quindi incominciamo a imparare dai nostri insegnanti ai nostri compagni di scuola fino a un certo punto quando entriamo nella fase adolescenziale in cui c'è un processo di ricostruzione cerebrale che è stata definita una potatura neuronale in cui tutti i legami neuronali questi percorsi queste strade che connettono le nostre cellule in tutto il corpo cadono e vengono potate tutto quello che noi non abbiamo utilizzato fino alla nostra adolescenza viene sostituito con nuove reti neuronali ed è un processo fantastico automatico che fanno in automatico le nostre cellule e però che cosa succede che noi dobbiamo distaccarci da questi processi imitativi e incominciare a fare il nostro percorso in cui incominciamo proprio a guardarci dentro a creare la nostra vera identità purtroppo però nella nostra società siamo veramente bombardati da stimoli da modelli si apre facebook si apre instagram ci sono sempre nuove proposte pubblicità prodotti se non hai questo non sei bello se non hai quest'altro non sei forte e tutto questo crea una serie di complessi che cominciano veramente a creare degli schemi emotivi che ci portano poi i problemi nel nostro sviluppo vediamo se c'è qualche cosa perché vedo 14 commenti ho letto e visto i video del dottor Litton ok esatto siamo solo dei canali con origine luce sì esatto esattamente così non siamo proprio poi vedo tanti che stanno preparandosi a scrivere ciao e quindi stavamo dicendo l'epigenetica grazie al supporto importantissimo della fisica quantistica sta proprio studiando le malattie ok ancora le cause le ragioni principali per esempio delle neuroplasie dei tumori o del cancro non sono state dimostrate completamente però ci sono delle grandissime informazioni su quello che riguarda le vibrazioni e l'energia del nostro corpo quando noi viviamo un trauma quando noi viviamo delle emozioni che sono molto forti questo viene elaborato nel nostro cervello noi abbiamo tutto un sistema emotivo una banca dati di informazioni una memoria emotiva che è composta un po' dal talamo e dall'amigdala questi sono diciamo dei filtri che si muovono cioè nel senso si muovono filtrano le informazioni che noi riceviamo dai nostri sensi per esempio se noi vediamo stiamo camminando per strada vediamo una scena qualunque che non ci colpisce a livello emotivo noi la percepiamo a livello della coscienza come conscio ma ci scivola addosso non rimane lì ma se vediamo una scena che ci impressiona e quindi va a sollecitare talamo e amigdala nell'amigdala è stato visto proprio come per esempio l'emozione della paura influisca ancora di più comunque quando noi viviamo delle emozioni forti il nostro organismo ci mette all'allerta quindi si crea tutto uno stato di allerta che va benissimo perché è importante per la sopravvivenza naturalmente però dobbiamo considerare il fatto che nel momento in cui noi viviamo delle situazioni di stress prolungato per esempio sul lavoro o facciamo un periodo di continui esami o di test riunioni che insomma ci stressano in maniera particolare il nostro organismo viene sollecitato già millenni fa la medicina cinese aveva identificato delle emozioni e ogni emozione corrispondeva a un organo per esempio la tristezza ai polmoni il dolore al cuore la paura ai reni e così via e questo è importante nel momento in cui noi vogliamo incominciare un processo di guarigione e quindi un processo interiore di consapevolezza dobbiamo capire le nostre emozioni e dobbiamo soprattutto capire quali sono gli stimoli esterni del nostro ambiente della società che ci producono determinate emozioni perché queste emozioni ripetute nel tempo ci porteranno inevitabilmente a una disfunzione fisiologica queste cose che sto dicendo sono state assolutamente dimostrate dalle neuroscienze anche se quando noi entriamo nel personale nell'individuale anche le neuroscienze hanno dei limiti per esempio hanno dimostrato che nel momento in cui noi proviamo gioia o tristezza muoviamo una serie di muscoli nel nostro volto che sono uguali sia nella gioia che nella tristezza ottimo però dobbiamo considerare che il contenuto emotivo delle due emozioni è completamente diverso certo i nostri muscoli si muovono in entrambi i casi ok gli stessi muscoli si muovono in entrambe le emozioni ma il contenuto emotivo che c'è alla base è completamente diverso oppure le neuroscienze hanno hanno soprannominato hanno chiamato l'ormone della felicità la serotonina fantastico ma qual è la cosa che produce che stimola in me la produzione la secrezione di serotonina perché io sono sicuro che per ognuno di noi che che siamo che che siamo qua va bene voi mi vedete io non vi vedo ma per ognuno di noi è completamente diverso per qualcuno sarà la cioccolata per qualcuno sarà il sorriso di un bambino per qualcuno sarà un abbraccio anche se l'abbraccio poi le neuroscienze hanno dimostrato che produce l'ossitucina comunque è molto importante in questo percorso e sulla base di tutto quello che è stato scoperto e che sta avvenendo fuori dall'unione dell'epigenetica con la fisica quantistica l'ambiente che ci circonda ma prima di tutto capire che cosa che cosa abbiamo dentro chi siamo scopo della psicanalisi è capire veramente chi siamo già lo dicevano gli antichi greci lo diceva Nietzsche e più passa il tempo e più filosofi sociologi ci ricordano quanto sia importante identificarci questo sta alla base di un fattore molto molto determinante il fatto che l'identità non ce la creiamo da soli l'identità ci viene data dall'esterno io posso essere un pranoterapeuta se qualcuno ha bisogno di me posso essere un meccanico se qualcuno ha un'auto da riparare e io ho delle conoscenze tecniche ma mettiamo caso che mi trovo su un'isola deserta dove non c'è nessuno dove ci sono solamente alberi sabbia mare e non ho nessuna forma di vita con cui dialogare è ovvio che la mia identità perde l'importanza nel senso che non non mi riconosco più non riesco più a trovare un senso alla mia vita e quindi è determinante anche in questo caso l'ambiente in cui noi decidiamo di crescere per esempio io posso frequentare un gruppo di amici che mi considera il migliore di tutti ok e quindi questo mi darà forza mi darà stimoli mi darà motivazione a frequentarlo eccetera ma se vivessi in una situazione in cui l'ambiente con cui sto interagendo mi considera dico una parola così uno sfigato oppure una persona che è ignorante oppure che non è all'altezza di quella amicizia o di quella compagnia naturalmente tutta la considerazione che ne esce su di me è negativa quindi questo per portare un altro esempio di quanto poi l'ambiente esterno la società sia importante tra l'altro stavo vedendo alle mie spalle c'è una rivista di psicologia che parla in questo numero delle dipendenze l'ho notato adesso mi è venuto proprio in mente e c'erano stati degli studi fantastici ad opera di un ricercatore psicologo canadese che ha voluto dimostrare quanto poi l'effetto delle 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 droghe tornando al discorso lui aveva fatto degli esperimenti con l'eroina e l'aveva utilizzata con dei topi va bene e si era accorto che mettendo un topo da solo in una gabbia in cui c'era un distributore di acqua e un distributore di acqua con dentro dell'eroina quando il topo assaggiava l'acqua e poi assaggiava l'eroina tornava a bere l'acqua con l'eroina col passare del tempo lui ha tenuto in questa gabbia questo topino da solo con poco mangiare con forti fattori stressanti per esempio delle scosse improvvise che lo spaventavano o dell'acqua che lo bagnava in momenti in cui non si rispettava insomma aveva creato proprio un ambiente stressante si è reso conto che dopo un mese questo topino era diventato un erognomane ok era completamente tossicodipendente quando lui lo ha tolto per provare poi il suo esperimento per poter dimostrare la sua teoria e lo ha messo in un vero e proprio parco giochi per topi in cui c'erano tantissimi topi topi maschi topi femmine c'era tanto da mangiare c'era tranquillità c'erano veramente tante distrazioni e c'era proprio una comunità attiva si è visto che questo topo quando ha dovuto bere aveva provato sia l'acqua normale che l'acqua con l'eroina però ha notato che con il passare del tempo non tornava più a bere l'acqua con l'eroina ma si fermava sempre nel serbatoio dove c'era il contenitore con l'acqua normale e lui con questo ha voluto dimostrare che di fatto l'essere umano è un essere sociale noi possiamo raccontarcela quanto vogliamo sul fatto che vogliamo vivere da soli o che abbiamo istinti da eremita e così via però l'essere umano è un essere che ha bisogno di compagnia ha bisogno di accettazione ha bisogno di essere coinvolto nelle attività quotidiane e ha dimostrato fortemente grazie a questo studio molto semplice chiaramente non poteva rischiare di far diventare una persona normale un eroinomane l'ha fatto con dei topi ma questi topi che comunque hanno una struttura cellulare che bene o male funziona come quella dell'essere umano ha dimostrato che non aveva più bisogno delle droghe era riuscito a ritrovare una sua dimensione in cui era felice e nel momento della sua gioia della sua felicità si era allontanato dalla tossicodipendenza in una maniera naturale spontanea senza l'aiuto di medicine che potevano essere dosate per portarlo ad abbandonare questa sua tossicodipendenza ha fatto tutto in maniera completamente naturale e un'altro un'altra dimostrazione poi è venuta fuori dalle persone che si ammalano del gioco il gioco che può essere gioco d'azzardo che può essere il gratta e vinci o la lotteria o la schedina persone che si avvicinano a queste pratiche e ne rimangono catturate quando loro giocano non assumono sostanze tossicologiche non assumono droga eppure dentro di loro nasce qualcosa nasce qualcosa che di fatto gli dà degli stimoli li fa sentire bene gli fa nascere questa eccitazione interiore che poi magari si trasforma anche in serotonina e li fa sentire vivi li fa sentire attivi anche nella loro solitudine perché noi dobbiamo ricordarci che le persone sole le persone che si ammalano a livello psicologico di droghe o di gioco è vero noi possiamo vederle in maniera contrario naturalmente però isolarle non è un modo per aiutarle il loro più grande bisogno è il bisogno di compagnia di aiuto di parole dolci di conforto di essere integrate purtroppo la discriminazione è sempre dietro dietro l'angolo adesso guardo un attimo se ci sono allora perché ho visto che ci sono tantissimi commenti allora allora aspetta un attimo allora facciamo la camera e il carico un attimo il pensiero genera la realtà sì il pensiero in qualche modo genera la realtà però dipende sempre in che termini ne parliamo il pensiero genera la realtà perché tendenzialmente noi siamo abituati a pensare che solamente il passato ci possa condizionare in realtà anche il futuro ci può condizionare però noi non ci fermiamo mai a pensare a questo aspetto nel senso che noi ci sentiamo degli esseri infiniti che avranno una vita normalissima che tanto si ammaleranno solamente gli altri solamente gli altri faranno degli incidenti o si ammaleranno per qualche altra cosa a noi questo non capiterà mai eppure invece no non è così perché questo ci può capitare come quindi nel momento in cui noi incominciamo ad educare il nostro pensiero e la nostra mente noi cominciamo a vedere il mondo che ci sta intorno a notare delle cose diverse faccio un esempio velocissimo che poi è stato anche l'argomento della tesi quando mi sono laureato c'era uno psicologo russo Alfredo Yarbus che ha studiato per oltre 30 anni il movimento dell'occhio e nei suoi esperimenti ha fatto vedere un quadro normalissimo in cui c'era una scena di un uomo che entrava in una stanza con delle altre persone e aveva preso un campione di persone una popolazione e a ogni persona chiedeva in un momento comunque separato di guardare un dettaglio diverso e si era accorto che il movimento dell'occhio partiva prima con una sequenza macro quindi andava ad esplorare il quadro a livello generico e quando trovava quel dettaglio quell'informazione fissa che gli serviva per poi descriverla al ricercatore l'occhio incominciava a muoversi molto più rapidamente con delle distanze molto più corte ecco al termine dell'esperimento quando lui chiedeva di descrivere questo quadro aveva notato che ogni persona in qualche modo lo descriveva diverso e sembravano quasi dei quadri diversi dunque lui ha raggiunto la conclusione che a seconda di come noi pensiamo in una certa misura vediamo in maniera diversa dunque in un pensiero positivo e in un pensiero negativo mettiamo caso che due persone diverse uno si chiama Bingo e l'altro Bongo stanno facendo una strada in macchina entrambi hanno un incidente stradale escono fuori strada la macchina si distrugge rotola e così via tutti e due si salvano ok Bingo mente negativa pensa porca miseria ho distrutto la macchina mi serviva per andare al lavoro adesso devo ripagare tutte le spese di manutenzione per ripararla eccetera torno a casa dalla moglie si arrabbia tutto nervoso guarda oggi non mi parlare rimani per conto tuo non mi infassi dire e quindi già si crea una certa situazione familiare negativa magari Bongo mente positiva esce fuori dalla macchina e dice mamma mia avrei potuto morire sono stato proprio fortunato adesso torno a casa voglio festeggiare rientra a casa prende la moglie dice amore dobbiamo festeggiare perché oggi ho rischiato di morire quindi ti porto fuori a cena ti porto a mangiare qualcosa di buono dobbiamo insomma ricordare questo momento che sarebbe potuto essere drammatico bene il pensiero in questo caso ha cambiato completamente la situazione una situazione che ho descritto familiare però di fatto sono due persone che hanno avuto lo stesso incidente con una mente diversa che è andata a notare particolari dell'incidente e quindi degli aspetti completamente opposti e nel primo caso uno è tornato a casa completamente arrabbiato e ha alterato tutta la situazione coniugale nell'altro è tornato a casa con un pensiero positivo e ha migliorato ancora di più la sua vita gli ha dato valore ok questo è un esempio spero di averti risposto in maniera Letizia Cirinna allora vediamo allora io i messaggi anni lei troppo lunghi non li leggo perché sennò è stato tutta sera a leggere allora oltre ai genitori anche altri parenti possono influire sull'individuo assolutamente sì ma non solo i genitori anche gli amici i colleghi del lavoro il responsabile oppure se vado a fare una vacanza i vicini di camera assolutamente possono influire tutte queste cose influiscono sull'individuo ogni cosa che noi viviamo che genera delle emozioni in qualche modo cambiano il nostro il nostro mondo interiore va bene però ecco nel caso dei genitori è un po' più pesante la cosa poi dipende anche dal livello del rapporto che c'è con i genitori perché ci possono essere in famiglie degli abusi fisici psicologici che vanno proprio a determinare lo sviluppo emotivo della persona Freud parlava degli schemi emotivi che si creano nei primi sette anni di vita le neuroscienze hanno dimostrato che si creano nei primi tre anni di vita bene se in questi tre anni di vita non viene fatto un lavoro sullo sviluppo emotivo del bambino questo bambino avrà delle problematiche poi a sviluppare i sentimenti la grande differenza tra emozioni e sentimenti è che le emozioni sono impulsive quindi sono delle attività imminenti che nascono per rispondere a una situazione immediata mentre i sentimenti sono già sotto un punto di vista cognitivo quindi è più ragionato ok tutto questo naturalmente influisce sul bambino e se vogliamo parlare di ricerche di testimonianze e di conferme a livello scientifico è stato proprio visto come quando i bambini crescono sviluppano le loro emozioni queste emozioni come detto prima partono anche da una certa imitazione dei genitori se un bambino cresce in una famiglia molto rigida in cui non gli viene concesso di esprimere la sua rabbia questo bambino la soffocherà quindi trasforma la rabbia in tristezza e nel tempo con la crescita con lo sviluppo non riuscirà a esprimere la sua rabbia nel contesto sociale quindi anche lì tenderà a trasformarla in tristezza come reazione a un evento che in teoria avrebbe dovuto fargli nascere la rabbia ed è stato dimostrato che a livello comunicativo naturalmente le emozioni si comunicano si comunicano con le parole ma anche con i gesti del corpo e con tutta la fisiognomica quindi l'espressione facciale ecco i bambini che non hanno potuto vivere un'emozione per esempio in questo caso la rabbia fanno fatica a riconoscere un'espressione di rabbia sul volto dell'interlocutore oppure i bambini che hanno soffocato la loro tristezza faranno fatica a riconoscere l'espressione della tristezza sul volto di qualcun altro e naturalmente creerà un certo analfabetismo emotivo perché non riusciranno a comunicare a livello empatico con quelle persone che si trovano di fronte e questo naturalmente è grave perché dopo il lavoro che va fatto è molto importante e anche molto molto particolare spero di di averti risposto allora i tre genitori vediamo basta il pensiero per autoguarire padre Pio mi sembra che dicesse che non basta pensare di essere un blu per diventare un blu ah no un bue per diventare un bue allora che cosa serve di più beh dai quello che ha detto padre Pio non è che ha detto sta grande cosa nel senso io posso anche pensare di diventare un bue ma è ovvio che non diventerò un bue però è molto importante il pensiero nella guarigione nella maniera più assoluta e anche questo è stato confermato dall'epigenetica è stato confermato dalle neuroscienze e dalla fisica quantistica questo grande salto quantico di cui si sente tanto parlare ma che in pochi hanno chiaro è quando si comincia ad affrontare la malattia non solo da un punto di vista fisiologico materiale ma da un punto di vista di coscienza e quindi si cerca il il significato della malattia perché noi dobbiamo immaginare che la malattia è un processo che nasce a seguito di un blocco che noi perpetuiamo e che si ingrandisce con il tempo faccio un esempio se una persona fuma e il medico gli dice guarda devi smettere di fumare perché sennò naturalmente svilupperai qualche problematica a livello polmonare a livello cardiaco e così via la persona è stata avvisata naturalmente può anche pensare che il fumo gli fa bene nonostante ciò il fumo gli fa assolutamente male però ecco il processo interiore di auto guarigione della persona che tende a portare l'organismo in una situazione di omeosasi e quindi un equilibrio interiore viene continuamente interrotto è anche vero che ci sono persone che fumano per 60 anni e muoiono magari in maniera naturale tranquilla e non li ha scalfiti il minimo male che potevano avere e poi ci sono persone che magari si ammalano di tumore ai polmoni o hanno un infarto a 30 anni sono sportivi non fumano un'alimentazione corretta e così via questo si distacca dalla parte fisiologica ma rientra nella parte emotiva ok quindi le emozioni entrano in gioco quando noi viviamo un'emozione come dicevo prima c'è tutto un processo all'interno del nostro cervello che è un ribollitore di di ormoni di vibrazioni di elettricità che se dentro di sé incominciano a muoversi delle emozioni per esempio di tristezza incominciano a mandare degli impulsi elettrici delle vibrazioni che sono molto alte al cuore all'organo di riferimento che nel caso della tristezza per esempio il polmone sempre parlando di polmone anche lì bisogna vedere se il polmone è destro o il polmone è sinistro e quindi se per esempio è colpito il polmone è sinistro è una tristezza legata al passato che continua a inseguire senza tregua il nostro amico oppure se invece è il polmone destro è riferito più verso il futuro perché per esempio anche nella medicina ayurveda e così via la parte destra è collegata al maschile e al futuro la parte sinistra è collegata al femminile e al passato quindi il concetto di pensiero per autoguerire si serve serve per incominciare a vedere la malattia non più come una condanna ma come una possibilità per capire che cosa ha fatto scaturire quella malattia quel male di conseguenza incomincieremo a fare una analisi molto molto profonda dentro di noi sulla nostra vita su quello che sta succedendo nel nostro contesto familiare sociale quali sono le cose che ci stanno determinando determinate emozioni di conseguenza è un nuovo percorso la malattia non può essere più affrontata come un semplice male ma deve essere affrontata come un'occasione una possibilità di crescere a partire da dentro a partire proprio dall'interiorità io ogni tanto vedo delle faccine arrabbiate non riesco a capire se qualcuno si sbaglia o se qualcuno è incazzato con quello che dico se ci sono dei contestatori si facciano avanti tanto non ho problemi a rispondere comunque il pensiero sì cara candida è assolutamente determinante è possibile che chi si ammala di cancro della famiglia è quella persona più forte cioè è possibile che catalizzi su di sé per proteggere il resto della famiglia dipende Antonella dipende 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 allora partiamo dal presupposto che da un punto di vista scientifico non è ancora stata scoperta la causa del cancro ok si sa che sono delle cellule che si ribellano e invece di morire continuano a crescere e quindi vanno contro il processo e le leggi biofisiche e biochimiche però poi dipende qual è la parte del cancro che viene colpita perché se il fegato ha un significato se il rene o i reni ha un altro significato ancora è una domanda troppo generica Antonella però ecco sicuramente se qualcuno catalizza su di sé tante energie tante emozioni che fanno parte della famiglia ha degli scompensi sia a livello emotivo che a livello fisiologico questo sì se poi la cosa possa portare a un tumore non te lo so dire bisogna fare degli altri lavori e capire bene Alina Bursakova ciao povero topo secondo me quel topo è quello che stava meglio di tutti allora sto guardando un po' di commenti allora se non sto sbagliando non vedo altre domande mio nipote ha 11 anni lui lo vedo triste penso che il papà penso che il papà è malato di SM cosa vuol dire non so se avete altre domande se volete poi avete due commenti andiamo grazie per l'argomento interessante la tua risposta ma grazie Candina prego Antonella quindi vediamo perché avevo preparato un gobbo che non è uno juventino di una scaletta per per parlare è passato un'ora non so se se la diretta deve finire se c'è qualcun altro dopo questo me lo devi dire tu Enrico innanzitutto Ada Martino ti devo illuminare accendo il faro accendo la luce Ada Martino io sono Gabriele mi occupo di trattamenti olistici sono laureato in psicologia non so che altro tu voglia sapere comunque parlando ancora velocemente del nostro organismo noi sappiamo benissimo che siamo fatti per l'80% da acqua e ci sono stati degli studi di un ricercatore un fisico giapponese Masaru Emoto non so se l'avete mai sentito che ha parlato proprio lui ha scritto un libro la sua ricerca poi l'ha chiamata il miracolo dell'acqua in cui ha andato proprio a studiare gli elementi della vibrazione e quindi la risonanza che trasmette energia lui aveva fatto tutta una serie di prove in cui inviava dei suoni che potevano essere delle parole o della musica all'acqua e andava poi a registrare come queste molecole di acqua si muovevano nello spazio e aveva proprio notato come alcuni suoni come odio come Hitler come rabbia come rancore come brutto come morte andavano a disporre le molecole di acqua in una maniera molto spigolosa molto rigida mentre altre parole come amore pace speranza ti amo ti voglio bene assumevano tutte le molecole assumevano delle forme molto armoniche e quindi si componevano con delle forme diciamo arrotondate e così via e poi aveva fatto degli esperimenti anche con degli elementi della natura per esempio la frutta in cui aveva passato del tempo a offendere una mela e a dire delle belle parole a un'altra mela e dopo qualche giorno era andato a vedere che la mela che aveva ricevuto delle offese era marcita mentre quella che aveva ricevuto parole positive di amore e così via aveva avuto un processo di invecchiamento molto molto più lento rispetto a quell'altra e questo era stato fatto notare anche con i suoni della musica alcuni suoni della musica classica per esempio o musica melodica disponevano le molecole dell'acqua in una forma molto morbida molto amorevole mentre i suoni di musica tecno metal rock molto aggressivo disponevano le cellule in una maniera molto spigolosa ecco tornando a quello che ho detto prima sul fatto che noi siamo fatti per l'80% di acqua è molto importante anche considerare i suoni della natura che ci circonda sicuramente i suoni di città per il nostro organismo per le nostre cellule corrispondono a dei suoni molto duri come se fossimo esposti diciamo a una musica metal o come se ascoltassimo parole molto negative mentre il suono della natura del vento dell'acqua che scorre del mare ci danno tutte delle altre sensazioni perché hanno delle vibrazioni molto più morbide molto più dolci molto più delicate che dispongono anche le nostre cellule in una maniera molto più armonica infatti quando voi tornate da una vacanza per esempio al mare montagna e vi sentite rigenerati e questo non è avvenuto solamente grazie al fatto che avete staccato la spina che vi siete riposati ma perché siete stati esposti a dei suoni molto più dolci molto più armonici rispetto a quelli dove vivete normalmente uno di questi per esempio è il cammino di Santiago che ho fatto 960 chilometri completamente nella natura tra gli alberi canto degli uccelli suono del vento della pioggia dei ruscelli il cammino di Santiago lo stanno studiando adesso ci sono dei ricercatori che stanno intervistando molte persone che hanno fatto il cammino tra cui anche sottoscritto appunto per arrivare a una teoria perché sono stati proprio notati i risultati positivi che il il cammino di Santiago porta al corpo ma anche alla mente dei pellegrini che lo percorrono addirittura una volta stavo parlando con un amico psicoterapeuta quando gli ho detto che avevo fatto il cammino di Santiago è rimasto un attimo così mi ha detto ma dai veramente pensa che molti dei miei pazienti in terapia da me dopo che hanno fatto il cammino di Santiago mi hanno chiamato e mi hanno detto che non avevano più bisogno di continuare il percorso con me e lui era rimasto stupito naturalmente però queste persone stavano veramente bene erano veramente guarite perché l'unico che può guarire tornando al discorso dei guaritori è Dio il figlio di Dio Dio si manifesta nella natura Dio è nel filo d'erba è nell'albero è nel vento è in qualunque elemento della natura vediamo ci sono altre domande vediamo un attimo l'ho visto anch'io su youtube che cosa ciao Gabriele si può vedere veramente no vabbè adesso vedo integralmente il totale non posso denudarmi in diretta su focus magari ti manderò la foto davvero molto esastino fa capire davvero i tanti misteri della vita sì alcuni ancora sono da capire io sono tutta tutta in me lì posso dire che sono apatrice allora le paure aggravano su tutte le patologie spesso ci vogliono persone come te per aiutarci allora ad amartino ottimo intervento tendenzialmente non esistono emozioni positive o emozioni negative le emozioni principali basiche sono quattro la gioia la gioia la tristezza la paura e la rabbia io molto spesso leggo sui social definizioni della rabbia come qualcosa di veramente negativo di atroce di nefasto come se fosse il diavolo non è così ogni emozione ogni emozione è biologicamente trasmessa ed esiste apposta per aiutarci ad ambientarci e a sopravvivere nel nostro ambiente va bene quindi ogni emozione è assolutamente indispensabile il problema qual è il problema non è arrabbiarsi una volta ogni tanto è giusto arrabbiarsi è giusto aprire questa valvola di sfogo e tirare fuori quello che noi abbiamo dentro il problema è si cronicizza quando noi viviamo nella rabbia quindi vivendo nella rabbia noi manteniamo il nostro organismo in allerto perché normalmente noi sviluppiamo questa emozione la rabbia entra in gioco nei momenti di criticità in cui magari veniamo sopraffatti in cui magari dobbiamo rispondere a una situazione o un pericolo imminente e quindi lo possiamo fare con la rabbia con l'aggressività quindi il nostro organismo si mette in allerta partono tutti dei sistemi assolutamente automatici e parte questa impulsività un altro discorso è vivere nella rabbia quindi mantenere costantemente il nostro sistema in allerto lo stesso vale per la paura la paura è un'emozione assolutamente indispensabile che ci permette di proteggerci di scappare di risolvere una situazione il problema è quando noi viviamo nella paura e quindi questa paura non è più un aiuto nella nostra vita ma diventa un blocco un limite perché con il tempo ci mobilizza poi la paura può avere varie diramazioni può diventare ansia può diventare angoscia può peggiorare diventare terrore quindi rimanere completamente bloccati però tendenzialmente la paura è una situazione che ci permette di sopravvivere tieni presente che quando noi parliamo di malattia e in questo caso siccome qualcuno ha parlato di tumori cancro eccetera nel momento in cui un malato riceve la diagnosi di tumore c'è un abbassamento quasi immediato del linfociti T4 che sono di fatto le difese immunitarie quindi quando noi riceviamo una diagnosi su un pericolo di mortalità e quindi di sopravvivenza e proviamo paura che poi si trasforma in angoscia, panico, terrore le nostre difese immunitarie si abbassano del 50% questo per farti capire quanto un'emozione possa influire sul nostro corpo sul nostro sistema nervoso e sulle nostre cellule e addirittura anche questo l'epigenetica con le neuroscienze eccetera ha dimostrato che nelle cellule che comunque hanno una loro coscienza e hanno una loro memoria ci sono stati casi in cui c'è stata una recidiva di tumore causata non dalla cellula in sé ma dalla memoria della cellula nel momento in cui la persona ha ricevuto questa diagnosi è stata comunicata in maniera brusca, in maniera non umana, senza empatia e quindi la persona ha subito un vero e proprio shock questo non capita solamente con il tumore naturalmente capita anche con le persone che magari fanno il test HIV e scoprono di essere positive o comunque a tutte quelle persone che ricevono una notizia che percepiscono come drammatica quindi il nostro organismo reagisce e le nostre cellule memorizzano ed è molto importante anche come noi usiamo le parole perché? Perché le parole hanno una vibrazione la vibrazione ha una carica che comunque è energetica e noi tendiamo ad assorbire tutto quello che ci viene dall'ambiente e anche le parole sono l'ambiente se noi siamo in un bar dove ci sono persone che urlano, litigano, c'è tensione eccetera noi torniamo a casa veramente molto molto stressati se noi invece passiamo una serata in riva al mare, sotto le stelle ascoltando le onde e il vento sulla pelle eccetera torneremo a casa veramente rilassati ma non solamente a livello di testa, non solamente a livello mentale ma tutto il corpo sarà rigenerato dai suoni che lo hanno pervaso e vediamo altre cose ciao Gina grazie, grazie, grazie insomma si fa il possibile poi non posso venire sul focus d'Enrico e fare figuracce allora ancora una domanda importante ma si provvede ora non so se in sé vuole stare sempre in casa cosa posso fare allora beh guarda dirti cioè darti una risposta senza senza vedere tua nipote senza vederla senza ascoltarla senza entrare in risonanza con lei è molto complicato però sai una cosa indispensabile del lutto è anche fermarsi rimanere soli rimanere con se stessi trovare anche dentro di sé le forze e le risorse che poi dovremo utilizzare per reagire io per esempio posso raccontarti la mia esperienza quattro anni fa ho perso mio padre è stato veramente un momento molto difficile per tutti e io ho dovuto reagire ho dovuto essere quello che ha sostenuto un po' tutti la famiglia e così via e ho posticipato la mia elaborazione del lutto che al contrario ho vissuto un anno dopo quando sono partito per il cammino di Santiago e sono stato solo mi sono isolato completamente durante il cammino ho conosciuto delle persone le ho incontrate ma rimanevo comunque in disparte rimanevo per conto mio avevo proprio bisogno di guardarmi dentro di sentirmi di ascoltarmi e questo mi ha aiutato tantissimo ora non so e a tua nipote che cosa stia facendo in questo momento ti posso dire che un mese per elaborare un lutto è veramente poco però ecco io non la forzerei più di tanto nel senso cercherei di starle vicino di far sentire la mia presenza più che altro per capire i suoi sviluppi psicologici e capire verso che direzione sta andando però forzarla a vivere una vita sociale riprendere alcuni impegni familiari che non si sente di vivere potrebbe essere peggio che magari lasciarla riposare lasciarla meditare lasciarla in ascolto di se stessa delle sue emozioni anche perché io ho veramente una domanda molto molto aperta bisogna considerare il carattere di tua nipote in che famiglia è cresciuta in che modo ha sviluppato le sue emozioni che consapevolezza ha dei suoi sentimenti e così via è una domanda veramente molto molto complicata io ti posso consigliare al limite di monitorarla a distanza starle vicino farle capire che ci sei che sei presente che qualunque cosa lei abbia bisogno ti può contattare ma non la forzerei perché ogni persona veramente ha dei tempi diversi che sono veramente soggettivi assolutamente nella maniera più assoluta poi io non so di dove sei al limite mi puoi contattare per per dei trattamenti o delle cose non so se non ci sono domande io andrei anche a dormire ciao Rosalba Bianco dalla Sicilia grande sei un tesoro Rosalba allora vediamo se c'è qualche domanda che mi sono tese ah dai non ci mancherebbe vediamo se mi ero segnato qualche appunto comunque è veramente importante e poi magari chiudo la diretta capire la propria natura la natura è molto semplice noi siamo molto complicati abbiamo un sistema cerebrale che è veramente complesso ancora tantissime cose non sono state scoperte e non sono ancora state registrate o comunque è ancora tutto in fase di studio però vi faccio un esempio semplicissimo visto che vi ho fatto vari esempi che alcuni potrebbero sembrare delle barzellette però vorrei farvi vedere per capire un'immagine un simbolo che possa arrivare un po' a tutti la natura nella sua semplicità è veramente fantastica prendiamo per esempio un arancio prendiamo un arancio se noi spremiamo l'arancio questo arancio sa nella sua natura nella sua semplicità che la spremuta che lui ci darà sarà di arancio noi possiamo insistere possiamo stressarlo possiamo incolparlo possiamo offenderlo fino alla morte chiedendogli di darci della spremuta di limone ma lui ci darà sempre una spremuta di arancio ecco noi siamo tanti frutti diversi in questo mondo su questa terra ognuno che ha la capacità di dare un tipo di spremuta però viviamo in contesti ambientali dove ci viene chiesto altro dove noi non possiamo esprimere chi siamo veramente dove la nostra creatività viene soppoccata dove la nostra fantasia viene ridicolizzata dove noi cerchiamo di tirare fuori la nostra essenza e questa essenza non viene capita quindi siamo veramente noi responsabili delle nostre scelte e per scelte intendo proprio le piccole le più piccole la gente con cui noi vogliamo essere c'era una leggenda orientale che raccontava di un bambino cinese che va da suo padre e gli fa la domanda del secolo papà quanto vale la mia vita lui lo guardò e senza rispondergli gli diede una pietra e gli disse figlio mio tu vai al mercato porta questa pietra mostrala a un venditore e digli se la vuole comprare quanto te la valuta non dire altro non venderla e poi torna da me il bambino il bambino prende va al mercato fa vedere questa pietra a un signore che aveva una bancarella e gli dice quanto me la compri lui guarda la pietra e dice ti do due dollari il bambino prende e torna a casa e dice papà mi vuole dare due dollari va bene non ti preoccupare vai in questo museo fai la stessa cosa vai dal direttore del museo fagli vedere la pietra fatti dire quanti soldi ti offre non vendela non dire niente e torna a casa vai in questo museo gli fa vedere la pietra il direttore del museo la vede e dice ah cavoli bella un pezzo raro se vuoi ti do duemila dollari il bambino non dice niente prende la pietra torna a casa dal padre e gli dice papà papà mi ha offerto duemila dollari e papà gli dice ok va bene non c'è problema vai adesso in questo negozio di antiquariato fai la stessa cosa fagli vedere la pietra non dire niente vedi che prezzo ti offre non venderla e torna a casa vai in questo negozio di antiquariato mostra la pietra al proprietario del negozio il proprietario del negozio la guarda prende una lente di ingrandimento comincia ad analizzarla sgrana gli occhi fa no questa pietra è veramente antica è preziosissima ti offro duemila dollari il bambino prende la pietra torna a casa e dice papà questo negoziante mi ha offerto duemila dollari e il papà lo guarda e dice vedi figlio mio non importa quanto vale realmente la tua vita ma quello che è importante è che tu stia con persone che valutano il valore della tua vita il più possibile perché sei tu che scegli alla fine a chi vuoi donare la tua pietra naturalmente la sua essenza la sua anima il suo spirito se tu decidi di darla a un mercante di dare la tua compagnia la tua presenza a un mercante che la valuta a due dollari tu sarai valutato sempre due dollari da quella persona dai il tuo tempo la tua persona a una persona che veramente la valuta tantissimo allora sarai sempre stimato sarai sempre valutato però è una tua scelta è una ricerca che tu devi fare prima di tutto partendo da se stesso e quando avrai scoperto secondo te quant'è il tuo valore potrai decidere la compagnia l'ambiente il contesto sociale in cui vivere se tutti voi cari amici di Focus vi sentite sottovalutati da qualcuno in realtà la colpa non è solamente dell'altra persona che vi accusa o vi critica o vi dà delle bastonate delle batoste o vi fa sentire frustrati ma in parte la grossa parte della colpa è vostra perché glielo permettete perché non decidete di riprendere in mano la vostra vita la vostra anima la vostra evoluzione di non guardare oltre di dire ok io preferisco rimanere da solo piuttosto che essere valutato due dollari e girare e provare sperimentare fino a quando non troverò qualcuno che mi valuterà 200.000 dollari quindi dopo questo vi do la mia benedizione e se non ci sono domande o altri interventi io vi saluto grazie per avermi seguito e se volete chiedermi l'amicizia su facebook mi trovate come Gabri Gabri sono mi nascondo dietro un nick e magari alla prossima più avanti Enrico tu ci sei mi invito a che cosa devo fare ciao a tutti amici buona serata ciao a tutti